Si è arrivati alla mia candidatura dopo un lungo percorso di confronto e di condivisione anche con le altre forze politiche. Come sapete a Nereto si veniva, per quanto riguarda il centro-sinistra, da anni di divisioni. Io da segretario del Partito Democratico ho avviato da mesi un lungo percorso di confronto con le altre forze politiche, presenti anche in minoranza del Consiglio Comunale, e abbiamo trovato sostanzialmente una soluzione nella mia figura. Bisognava, nell'ottica del rinnovamento e dell'unità, trovare una persona che incarnasse e che si facesse portatore di questi valori, di questa ritrovata unità dopo anni di divisione, e sono molto contento di essere il candidato sindaco del centro-sinistra e di essere la figura indicata dalla coalizione per guidarla alle prossime elezioni amministrative. La nostra è una coalizione che guarda a tutto il centro-sinistra, che vede coinvolti, come avete sicuramente letto, il Partito Democratico, che rappresento con onore, il Movimento 5 Stelle, che è entrato in coalizione, così come anche le forze della sinistra per Nereto, il Partito Socialista, il Terzo Polo, che a Nereto ha deciso di sostenere la mia candidatura, e anche una parte dell'associazione Servire Nereto. Perché dovrebbero...